ah bella rega bella rega rega oggi mi è presa con renato zero stringimi forte no 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 che nessun video è infinito ok appunto cominciamolo almeno i migliori video del nestro nestro canale aspetta canale che cosa triste sì una cifra no perché sapete tra un video e altro quando si registra non è che noi si sia il city quindi succede che magari si canta si comincia il video cantando cioè rischiamo che finiamo il video di prima cantando e cominciamo quello dopo cantando cioè perché abbiamo fatto la stessa c'è una timeline in tutti i nostri video ti ricordi quando facebook ha inserito la timeline si tutti si erano impanicati questo schifo comunque niente questa è storia del web allora nel lontano 2012 su e non è la timeline comunque ragazzi se mi piacciono i timeline ma soprattutto se mi piace renato zero questo è il cane giusto iscrivetevi e lasciate i like 5000 per un prossimo episodio di 94 per cento oggi siamo al livello 23 ti fa felice la fregna bucio del culo anche ti fa felice dipende dai gusti sessuali la fregna ma non sempre perché quando si rischia culo pene c'è non noi è però c'è qualcuno di voi ogni volta lui se ne esce queste cose vabbè le pene dell'inferno il 18 basti il cioccolato figlio non sempre però quando lo vuoi ecco cin cin ah il denaro è tutti ipocriti che nessuno lo mette ma dai ma su ma si sa che siete solo e poi saluti allora vediamo saluti per favore l'ho messa hai messo saluta ari da ieri ma non si è veniva per quanto saluta e vabbè palla per me a me la palla non ci avevo pensato perché perché a cia quando ammazzi tipo giacquo spartatore quando ammazzi a cira una cira amico amici vedi che non andavo sano e beh come direbbe banderas il sorrisso la sorella che cazzo ne so sorpresa pesa meno male perché se non c'entrava presa c'è c'è questa questa c'è stata salute ma tenenti conto c'è ma che cazzo tonalità di giallo io conosco solo il giallo io pure con i colori che vado mortiscio allora io aspetta una volta l'analisi durino e ce l'ha scritto giallo paglierino dai e canarino giusto perché ho fatto analisi canarino e perfetto oro oro ok rosso è una specie di giallo a giallo si è vero giallo che rosso pompeiano sono i colori dalla roma allora ci siamo dai giallo che manca giallo sole no indaco no indaco e poi non fai così vabbè allora eh ma quante gialli esistono e io stico giallo cioè giallo limone ma davvero oh non dire limone pezzi rari tutta la mia vita è giallo rossa vabbè piano lettera giallo come direbbe banderas giallo scurro ma non c'è neanche la oltre e giallo no vabbè però non pensi la sabbia gialla ma non è che c'è il giallo sabbia si vabbè la famo giallo solo in c'è giallo giallo fastweb però guarda che un giallo differente dall'altro è questo questo è più giallo sabbia dai mettiamo sabbia sabbia è la sabbia no non lo voglio installare subito sopra l'altro soprattutto non voglio installarlo subito ok vabbè io direi cosa principale che ci darà il 39 per cento smalto matita specchietto ma quello per la lodore specchietto no specchio rimmel non so più che cazzo ditte rosso giallo rosa rosso giallo malboro visto regate sono proprio io tu apri un canale ma in quel momento io già ho un canale di make up tra l'altro si raga vuole dire famiciamo no no perdita di tempo perché le donne sono belle anche struccate c'è ero giroidi ah ma che sta una donna struccando una struccata mamma mia quello è un giallo senape però eh quello è tutta la vita un giallo senape quello è un giallo fastweb quello è un giallo senape preciso preciso e a me l'avevo messo rossetto a merda oh arriva i soldi indietro bellezza come te permettiti di ste cose ragazzi purtroppo questo libido questo livello quanto cazzo ci abbiamo messo ci ha portato via tanto tanto tempo perciò se questo video vi aspetta lasciate facciamo un giallo ogra like fate buonissimo questo è il numero si andate sul photoshop cliccate il numero di giallo ogra e mettete i like in base a che non lo so vabbè però era un'anità carina si vabbè vabbè comunque 10 0 0 0 4 vabbè ma perché stanno attenzione di pensare comunque ragazzi finite queste cose molto nerd vi invitiamo a lasciare i like se vi è piaciuto niente noi ci vediamo al prossimo video e continueremo dal 24esimo livello dai grazie è tutto ciao ciao grazie dell'altro buono